Un evento sportivo ma molto particolare perché è un evento che vengono coinvolti tutti i ragazzi che hanno anche delle disabilità. È un'ulteriore iniziativa che ho voluto fortemente, ringrazio tutte le associazioni che contribuiscono alla realizzazione di questo evento, un evento che lo scorso anno abbiamo fatto a Sant'Egiglio, quest'anno a Campli, e rientra nel progetto più ampio del piano sociale regionale che come sapete, che ho detto più volte, abbiamo triplicato i fondi, ci permette di fare questi progetti speciali, adesso tramite lo sport. Quindi vogliamo includere tutte le persone fragili nel mondo sociale, lo stiamo facendo tramite la cultura, l'enogastronomia, l'arte, e adesso tramite lo sport. Quindi vogliamo rimuovere ogni forma di barriere, non solo quella architettonica, per cui stiamo lavorando anche lì mettendo diversi fondi, ma anche abbattendo ogni forma di barriere morale e psicologica. Quindi oltre alle misure ordinarie che stiamo mettendo in campo, quindi come la figura del caregiver, la vita indipendente, il dopo di noi, il rimborso delle spese oncologiche, c'è un capitolo che ho voluto fortemente che ci permette di rendere una vita più dignitosa alle persone fragili. Quindi questi ragazzi non li dobbiamo ghettizzare, quindi renderli autonomi e soprattutto integrarli nel mondo sociale. Il 16 noi saremo presenti al palazzetto dello sport di Campli con una tensa struttura all'esterno del palazzetto e una cucina da campo appunto per allestire e convenzionare quelli che sono i pasti, il pasto, il pranzo per questi ragazzi e per gli accompagnatori. All'interno del palazzetto avremo una nostra associazione, dimensione volontaria di Roseto, che gestisce un centro di urno con i propri ragazzi disabili, dove appunto all'interno allestiranno un tavolo per far vedere tutte le loro attività, dalla ceramica all'apicultura, che sono due progetti molto importanti, che tra l'altro l'apicultura, che è stato un progetto che è iniziato da poco, è stato presentato a livello nazionale ed è arrivato primo appunto come progetto. Ambas è presente nel sociale, è molto presente in regione, ma soprattutto nella provincia di Teramo, dove abbiamo 22 associazioni che fanno parte del nostro movimento e quindi abbiamo tanti volontari che si dedicano a questo tipo di attività.